Questione fiera, quote, strategie di sviluppo, acquisizioni. L'accordo con Rimini sono stati gli argomenti oggetto dell'esame della seconda commissione consigliare a Palazzo Trissino, a chiarire e spiegare allo stesso presidente di IEG, Lorenzo Cagnoni. Sul tavolo del dibattito ci sono gli accordi con la fiera di Rimini da perfezionare la richiesta dello stesso Cagnoni e i soci, comune, provincia, camera di commercio, di investire. Il piano prevede 50 milioni di cui 26 milioni a carico di IEG, il resto da suddividere tra i soci. Un investimento economico importante per Palazzo Trissino, che vuole chiarezza e capire modalità e fini, dopo che già in sei mesi si è arrivati alla fusione dove la città è uscita con le ossa pestate. Non vorremmo ripetere l'errore, anche perché con questa operazione la partecipazione si riduce di Vicenza dal 19% al 9,5%. E quindi è importante che Vicenza, socio di minoranza, venga tutelato nel migliore dell'ipotesi. Dal canto suo il presidente di IEG Cagnoni, relazionando in commissione, ha parlato di visione complessiva, di tempi strettissimi in un settore dove perdere il treno significa chiudere i battenti, ma il sindaco mette i puntini sulle i. Le aggregazioni vanno bene se hanno una logica industriale, quindi io sono a favore delle aggregazioni quando c'è una razionalità nell'operazione. Questa deve essere però dimostrata a chi poi deve decidere, quindi in primis ai soci che ne fanno parte della società. Una volta che viene dimostrata poi si possono fare le aggregazioni.